Rita Dalla Chiesa per Action Academy, come è nata questa collaborazione e cosa le ha fatto dire sì? Nasce da grandi amicizie con Nando Moscariello e con la maggior parte delle persone che ci lavorano e poi perché mi interessa? Perché credo molto nel fatto che ci debba essere una scuola per interagire con i giovani, con i ragazzi immagino che sia la cosa più importante, devono imparare a fare un lavoro che tutti pensano dopo aver fatto un reality o passare per la strada di dire io voglio fare l'attore, l'attore costa, è pesante, io non sono attrice e stavo proprio dicendo adesso a Eva Grimaldi che io non l'avrei mai potuta fare l'attrice perché l'attrice comporta dei sacrifici anche psicologici, ti devi comunque mettere nei panni di altre persone io sono io e posso fare solo la conduttrice televisiva o la giornalista, non posso fare altro Tra l'altro Action Academy infatti non si concentra soltanto sulla recitazione ma cercherà di far scoprire tutto il mondo che ruota intorno alla produzione di un film, di una fiction, giusto? Soprattutto dai discorsi che abbiamo sentito stamattina credo che la cosa importante sia soprattutto insegnare a questi ragazzi l'umiltà, l'umiltà di entrare in un mondo in punta di piedi di mettercela tutta per entrare che vale più la meritocrazia che la raccomandazione certo c'è anche il raccomandato, se vale va avanti, se no rimane al palo però credo che sia una cosa molto importante che sappiano che quando entrano in uno studio di posa o in uno studio televisivo comunque c'è tutta una squadra che ci lavora nella trasmissione quindi tu devi imparare a fare sempre un passo indietro rispetto a loro sei davanti alle telecamere ma sono dietro le telecamere le persone che contano Prima parlando di Forum e appunto della collaborazione con Nando diceva l'importanza che lui ha avuto nella scelta di quello che forse è stato l'ingrediente fondamentale ovvero il pubblico, gli opinionisti Gli opinionisti, quando Nando è arrivato con i suoi opinionisti Forum ha cominciato a fare il 34% di share che fa ridere rispetto al 12 di oggi Ma essendo web, le va di dire soltanto una battuta sui fraintendimenti che nascono sempre quando uno commenta, visto che recentemente hanno proprio frainteso Come si fa a reagire quando insomma il web oggi appunto uno scrive una cosa e subito magari viene attaccato Devo dire che ci sono abituata, nel senso che io qualunque cosa dica, non so perché, per quale motivo Crea sempre qualche problema Probabilmente la gente non sa leggere E soprattutto in quest'ultimo caso, parlando di storia e quindi di Grecia e Germania Io avevo detto, sto con la Grecia Che in qualche modo, tra virgolette, quindi bisogna imparare a leggere anche le virgole e le virgolette Ha aiutato gli italiani a Cefalonia Cefalonia è piena di episodi, di grande amicizia fra Greci e Italiani che invece erano contro Perché nella storia dovevano essere contro Non dimentichiamoci che nel massacro di Cefalonia poi gli italiani sono stati massacrati Proprio la divisione Acqui è stata decimata Proprio perché aveva preso le difese a un certo punto dei Greci Quindi credo che la gente dovrebbe imparare a leggere di più, a essere più educata Perché c'è modo e modo di confrontarsi sul web Ci può essere la gentilezza, bellissimo il confronto, bellissima la critica Detesto le persone che diventano razziste appena non la si pensa come loro Questo l'ho scritto anche su Twitter Giustissimo, e poi comunque se no il web può essere anche un momento per far vedere quanto è importante un'amicizia Come la foto che è stata pubblicata con Mara Venier, molto molto bella Vabbè ma Mara e io siamo amiche da una vita Ci siamo spalleggiate, supportate a vicenda per tanti anni della nostra vita insomma Quindi Mara sta attraversando un momento difficile perché le è mancata la mamma da poco E io sto con lei Ma io ho un consiglio, ormai sono abituata a dare i consigli d'amore Perché non so dare a me stessa e cerco di dare agli altri E invece un consiglio ai ragazzi in modo concreto è quello di non farsi fermare Di non farsi fermare da quelli che dicono ma che cosa stai facendo Ma stai buttando via tempo eccetera Se ci credi veramente e non lo fai solo per apparire Vai per la tua strada perché ce la fai sicuramente E poi un saluto a tutti voi